Era il signor Conte, il suo primo ministro, che ha chiamato perché ha chiesto di, come dicevamo prima, l'ordinanza va coordinata con il ministro dell'assoluto e mi dicendo, siccome hanno intenzione domattina di emanare degli indirizzi di carattere nazionale cui chiedono le regioni di attenersi, ci hanno chiesto di sospendere l'applicazione, anche la firma dell'ordinanza al confronto che ci sarà domattina. Quindi è chiaro che non possiamo a questo punto immaginare la chiusura delle scuole da domani perché dobbiamo attendere l'incontro di domattina e il coordinamento nazionale e che significa che eventualmente questa ordinanza la prenderemo domani dopo il coordinamento.